Manca la luce e viene riviata data da destinarsi il Consiglio Comunale Straordinario di Milazzo che avrebbe dovuto prendere posizione sulla riconversione in impianto per l'utilizzo del CSS del Lady Power di San Filippo del Mela. Per lo stesso inconveniente è saltata la seduta della Commissione Consigliare che avrebbe dovuto sentire sullo stesso argomento i rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Ordine Provinciale dei Chimici di Messina. Per il consigliere comunale Mamertino di Fai Partire il Cambiamento, Simone Magistri, si è trattato di uno scempio democratico a danno della collettività. Nel mirino di Magistri la Presidenta del Consiglio Comunale che con atteggiamenti ostruzionistici e dilatori, ha scritto in una nota, ha impedito al Consiglio di esprimersi su una proposta di delibera presentata circa tre mesi fa in presenza anche di una richiesta di convocazione presentata da alcuni consiglieri. Non dimenticando che la seduta era stata convocata per le 18.30 quando il disservizio elettrico sarebbe rientrato e c'è di più. Per domani è stato convocato un Consiglio Comunale aperto che non potrà adottare alcuna decisione. A parere di Magistri, per la questione legata alla Commissione Consigliare poi non sarebbe stato assolutamente un problema la mancanza dell'energia elettrica poiché si sarebbe potuto verbalizzare su carta una carenza che non ha provocato ripercussioni sugli uffici comunali regolarmente aperti. Questa situazione per Magistri servirà solo ad allungare il brodo e a non decidere con esborso di denaro pubblico a carico dei cittadini.